Da quest'anno il carcere di Lanciano è diventato totalmente ad alta sicurezza. I detenuti di media sicurezza sono in fase di trasferimento. Si tratta di una struttura AS3 che ospiterà detenuti per delitti del 416 bis del Codice Penale Associazione di Stampo Mafioso ed altri reati gravi. La riorganizzazione dell'Istituto Penitenziario mette ancora una volta in luce il problema dell'organico. Attualmente al di sotto di 48 unità rispetto al numero previsto. Gli agenti sono pochi e costretti a fare straordinari, come ci dice Piero Di Campli del sindacato Sappe. Il problema principale per i lavoratori del carcere di Lanciano resta sempre quello della carenza di personale. Con la trasformazione del circuito detentivo non c'è stato un aumento naturalmente in previsione organica. Noi ad oggi contiamo su 160 in previsione e ne siamo 112. effettivamente presenti. Quindi una 48 unità in meno e il lavoro che sta sulle spalle di tutti gli altri poliziotti penitenziari. Mi aggancio a questo per fare un plauso a tutti i colleghi perché nonostante si faccia il lavoro di 50 persone in meno e le attività le continuiamo a garantire tutti i giorni, le attività di trattamento nei confronti della popolazione detenuta, le attività di polizia giudiziaria. Nell'ultimo anno sono stati rinvenuti all'incirca una ventina di telefoni cellulari, sostanze stupefacenti. Insomma, noi continuiamo a tenere alto l'onore e i compiti istituzionali che dobbiamo garantire. Nonostante la nostra stima al dottor Silla, che è una persona altamente professionale e molto umana, c'è di fatto che lui è costretto a farci fare più dell'orario ordinario di servizio. Quindi noi rimaniamo in servizio oltre le sei ore, le otto, le dieci, le dodici a volte e a fine mese, ahi noi, abbiamo visto il taglio delle ore di straordinari in busta paga. E dal provveditorato è arrivata la notizia che non ce le paga, ma le dobbiamo prendere a riposi compensativi. Ad oggi abbiamo oltre 136 giorni di ferie pro capite vecchie da smaltire. Vorrei sapere come facciamo a smaltire i riposi compensativi. Grazie.